Presidente Mattarella, un anno fa, il 7 febbraio 2020, Patrick Zacchi è stato arrestato all'aeroporto del Cairo, mentre stava tornando a casa per un breve periodo di pausa, prima di iniziare il suo secondo semestre all'Università di Bologna, dove si era iscritto al Master europeo Gemma in studi di genere e delle donne. Patrick era arrivato in Italia nel settembre 2019, grazie a una prestigiosa borsa di studio Erasmus Mundus, ottenuta dopo un rigoroso processo di selezione. Nei mesi trascorsi nelle aule del nostro Ateneo, Patrick ha condiviso con la comunità studentesca desiderio di conoscenza e impegno per formarsi in una direzione di scambio interculturale, senza mai dimenticare la difesa dei diritti della persona, l'inclusione e il rispetto delle diversità come fonte di ricchezza umana, sociale e culturale. Da un anno Patrick è in stato di detenzione, ha compiuto i suoi 29 anni in carcere ed è stato un compleanno ben triste. Dal carcere di Tora, dove si trova, continua ad aspettare, tra ripetuti rinvii di udienze e rinnovi di custodia cautelare. Il suo profondo impegno morale traspare da numerosi messaggi che lo studente invia dal carcere egiziano. Fate sapere a tutti che sono qui perché sono un difensore dei diritti umani e non per qualsiasi altra ragione inventata. Il suo impegno per i diritti civili, per la libertà di pensiero, la sua attenzione verso i gruppi più marginalizzati, meno ascoltati e non riconosciuti, è per noi motivo di orgoglio ed esempio di coraggio e resilienza. Le sue lettere dal carcere testimoniano forza e generosità verso gli altri, a cui si rivolge con grande affetto e per i quali si preoccupa con premurosa attenzione. Ma esprimono anche sconforto per la sua vita spezzata, per gli studi interrotti. Fatemi uscire il prima possibile da qui, voglio tornare all'università a studiare, ha scritto in una delle sue prime lettere. Mi mancano casa, famiglia, gli amici, gli studi. Patrick è un giovane coraggioso, leale e forte, ma abbiamo paura che questi lunghi mesi di detenzione di profonda incertezza e pericolo per la salute, accentuate dalla pandemia, rendano la sua condizione ancora più drammatica. All'indomani dell'arresto su impulso del Consiglio studentesco organizziamo una marcia simbolica da qui, da via Zamboni, cuore della vita studentesca cittadina, fino a Palazzo d'Accursio, luogo di profondo impegno civile. Da allora la nostra attenzione e la nostra tensione sono rimaste costanti. Così come immutata è stata la nostra speranza che la richiesta di Patrick di tornare alla vita libera e agli studi potesse essere ascoltata. Tante associazioni e istituzioni del nostro Paese del mondo intero si sono unite a noi con uguale impegno. Tra queste associazioni ne ricordo alcune. Amnesty International, Articolo 21, GoFair, inoltre Alternativa Progressista. Oggi sono qui con noi tanti sindaci italiani, li ringrazio, molti sono collegati, a significare che Patrick non è più soltanto un cittadino dell'Alma Mater e di Bologna. È un giovane uomo che il nostro intero Paese riconosce quale esempio di impegno morale e civile. Patrick è oggi cittadino onorario di innumerevoli città perché è testimonianza di quanto siano fondamentali il desiderio di conoscenza e l'amore per quello spirito critico che è vero motore di cambiamento e abbattimento di ciechi assolutismi. Alla scelta di Patrick dell'Italia come luogo di conoscenza hanno risposto le città che oggi sono qui insieme a noi, rappresentate dai loro primi cittadini. La loro presenza ci spinge a chiedere a lei, Presidente, di ascoltare le voci di studentesse e studenti, docenti, personale delle università, delle cittadine e i cittadini, delle sindache e dei sindaci che chiedono all'unisono giustizia e libertà per Patrick. Patrick ha diritto di tornare in Italia, in un Paese che lo ama e ne ha adottato la forza, il coraggio, l'entusiasmo per lo studio. Ha soprattutto diritto di tornare libero alla sua vita, ai suoi affetti. Non ti lasceremo solo, Patrick. Diritti umani, culturali e civili esigono oggi più che mai la tua liberazione e quella di tutti gli studenti che nel mondo sono privati della loro libertà di pensiero.